Il signor Rigoni va a fare spese. L'abito del tuoi sogni è il nome di un importante negozio nel cuore della città, un negozio di vestiti da uomo. Aristide Rigoni vuole fare un regalo a se stesso. Quando si sente triste, Aristide compra sempre qualcosa. Così, un giorno, arriva fino all'entrata del negozio e si ferma davanti. Guarda le vetrine, a righe. Bello quel vestito, pensa il signor Rigoni, ma non so quanto costa. C'è solo un modo per conoscere il prezzo. Entrare e domandare. Una donna cammina verso di lui. È giovane e carina, ha i capelli lunghi, a righe. Buongiorno, desidera? Buongiorno, vorrei vedere quel vestito da uomo in vetrina. Quale, quello classico, grigio? Sì, quello classico. Eccolo lì, quello a righe. Quale, scusi? È proprio davanti a lei, vicino alle cravate a righe. Ma noi non abbiamo cravate a righe. Di quali cravate parla? Di quelle vicino al pigiama. Ma quale pigiama? Questo qui, non è forse un pigiama, scusi? No, non è un pigiama, questa è una maglia di puro cotone. Il signor Rigoni mostra alla donna l'abito che vuole vedere. Ah, questo? Ma questo non ha le righe. Non ha le righe? No, è un vestito senza disegni, molto elegante. Vuole vedere uno di questi con le righe? Avete vestiti a righe? Certo, abbiamo vestiti di tutti i tipi. Adesso vado subito a prendere un bellissimo abito a righe. Tomo fra un momento. La donna esce dalla stanza. Dopo un po' ritorna con qualcosa in mano. Ecco qua. Guardi, un vero abito da uomo a righe. Non è meraviglioso?